Buongiorno a telespettatori di Le Fonti TV e ben trovati in un nuovo appuntamento di Illegal Corner verso uno studio legale 4.0. Questo è il titolo della tavola di oggi. Cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di innovazione e studi legali, un argomento quanto mai attuale. Come sappiamo nell'agenda delle imprese e dei clienti degli studi c'è proprio questo obiettivo 4.0, non soltanto in quell'agenda, anche nell'agenda governativa. Oggi insieme ai nostri ospiti proveremo a capire quanto questi obiettivi vengono percepiti, interiorizzati e poi sviluppati dagli studi legali. Lasciatemi innanzitutto dare il benvenuto ai primi due ospiti di questa trasmissione. Ben trovata Rita Santaniello, partner di Redel. Ben trovata Rita. E ben trovato anche l'avvocato Vittorio Cerulli Relli, partner di Trevisan e Conso. Ben trovato avvocato. Buongiorno. Partirei proprio con lei, avvocato. Molto spesso negli studi legali, diciamocelo, il 4.0, l'obiettivo 4.0 è un po' utilizzato come uno slogan per rispecchiare quelli che sono gli obiettivi aziendali un po' meno implementato. Cosa viene fatto concretamente nel vostro studio per dare corpo a questo obiettivo? Sì, sono ormai anni che le priorità dello studio Trevisan e Conso sono due. Una, le nostre risorse da valorizzare e l'altra, la nostra infrastruttura tecnologica, su cui abbiamo investito moltissimo nel corso degli ultimi anni e continuiamo a investire. Volendo dare qualche dato, gli investimenti in tecnologia in senso lato negli ultimi tre anni sono incrementati di oltre il 200% dentro il nostro studio e nel 2020 abbiamo investito oltre un milione di euro in ammodernamento dell'infrastruttura tecnologica. Questo si è accompagnato anche ad un ammodernamento della nostra sede di Milano in un momento in cui si rendeva necessario ed è stato particolarmente felice anche il momento in cui ciò è avvenuto, un ripensamento degli spazi in chiave post-pandemica, in tutte queste nuove modalità di lavoro che abbiamo in parte a conoscere nello corso dell'ultimo anno e mezzo. L'infrastruttura che abbiamo implementato è un'infrastruttura che già da prima della pandemia consentiva un lavoro sia in remoto che in presenza senza alcuna differenza di qualità del lavoro da parte del professionista in un'ottica di agevolare il più possibile la nostra flessibilità e al tempo stesso garantire la maggiore flessibilità alle nostre risorse. Molte persone che lavorano in Trevisano e Conso hanno famiglia e si voleva andare incontro in queste esigenze. In più abbiamo da ormai tanti anni quattro sedi dislocate sul territorio italiano fortemente integrate e quindi si necessitava di un'infrastruttura che consentisse un lavoro estremamente agile tra queste diverse sedi. Questa infrastruttura che abbiamo messo in piedi è stata testata a marzo 2020 in un vero e proprio test critico in condizioni critiche e devo dire che ha dato grandissima prova di sé. Noi non abbiamo essenzialmente perso un giorno di lavoro, il flusso di lavoro è continuato in modo assolutamente costante tra febbraio e marzo 2020, questo si è riflesso anche sui nostri risultati del 2020 che hanno visto un altro anno di crescita e in un circolo virtuoso che permette una sempre maggiore crescita dello studio e sempre maggiori investimenti in tecnologia. Un altro aspetto secondo me molto importante da evidenziare è l'attenzione che oggi i nostri clienti prestano alla sicurezza dei dati. Noi siamo uno studio specializzato in contenzioso di alto livello e prevalentemente di alta tecnologia, per chi non ci conoscesse ci occupiamo di contenzioso brevettuale IP estremamente complesso. I nostri clienti sono tra le società più innovative e del mondo e hanno un'esigenza quasi maniacale di tutela dei propri dati e delle proprie informazioni sensibili. Io in particolar modo mi occupo di contenzioso brevettuale elettronico, di tutela del know-how e al momento del conferimento dell'incarico veniamo addirittura spesso sottoposti a una sorta di audit da parte del cliente che vuole sapere qual è l'infrastruttura tecnologica di cui siamo dotati, quali sono i requisiti di sicurezza informatica che garantiamo alle informazioni del cliente in un vero e proprio passaggio essenziale per il cliente per il conferimento dell'incarico, quando si hanno a che fare con informazioni particolarmente sensibili. Noi pensiamo che questo è il trend a cui è esposta l'avvocatura che vuole stare sul mercato in un modo innovativo e che possa assicurare un'assistenza clientela sempre più sofisticata e immaginiamo che si andrà sempre più in una polarizzazione del mercato tra studi che riescono a garantire queste esigenze anche di infrastruttura tecnologica e che possono quindi garantire un servizio ai clienti in linea con quelle che sono le loro aspettative divenendo questa esigenza appunto imprescindibile. Con un ripensamento dell'infrastruttura sia nel senso di ripensamento interno per cambiare il modello organizzativo dello studio sia per rispecchiare quelle che sono un po' le esigenze chiaramente di tutela dei clienti, laddove gli stessi clienti ovviamente investono e pensano alla protezione dei loro dati, quindi sarebbe assurdo se un loro consulente, un partner fosse soggetto al trafugamento dei dati stessi e questo è veramente di un'importanza chiaramente centrale credo per qualunque cliente. Interessante è anche quello che ha detto, cioè la necessità di armonizzare le sedi. Trevisan e Ponso ha più di una sede, quattro in Italia. Che tipo di sforzo comporta per uno studio legale questo tipo di armonizzazione? Devo dire, dal lato di armonizzazione umana, delle risorse umane, è sempre venuto in modo estremamente naturale. Per fare un esempio io sono il socio responsabile della sede di Roma, sono stato a lungo a Milano e fino a che poi non abbiamo aperto la nostra sede romana e sono profondamente integrato nella vita quotidiana dello studio e così il mio team è basato su Roma. Stesso discorso per le nostre sedi parmigiane e baresi. Lato IT, quello che è stato lo sforzo di Trevisan e Ponso è stato quello di garantire fin dal giorno 1 un'integrazione completa della sede non milanese con l'infrastruttura tecnologica milanese. Io non sono evidentemente un designer di sistema di rete, ma posso dire che noi abbiamo tutte le sedi integrate in fibra ottica, con connessioni dirette, l'esperienza di lavoro sia che si lavori a Milano, sia che si lavori in un'altra sede, sia che si lavori a casa, sia che si lavori alle Hawaii, non cambia in nessun modo. È assolutamente trasparente per noi l'ufficio, il luogo da cui ci colleghiamo, con una VPN estremamente avanzate che consentono un accesso a tutte le risorse dello studio dovunque ci si trovi, con la necessaria sicurezza informatica come regolarmente i nostri clienti tengono ad appurare. Di cui prima, di cui parlavamo prima. Avvocato Santaniello, passo a lei e continuo a parlare di sedi, perché sempre per chi non dovesse conoscere, è una realtà internazionale, quindi non parliamo soltanto di sedi in Italia, ma anche di sedi all'estero. Molto spesso quando si fa riferimento a studi internazionali si pensa che l'Italia sia un po', diciamo, mocello fuori dai denti, il fanalino di coda, soprattutto quanto a patrimonio IT, know-how infrastrutturale, quindi si pensa che la sede italiana sia vantaggi di quello che in realtà è sviluppato all'estero. Redel, da questo punto di vista, in realtà costituisce un caso di studio molto interessante, perché, come abbiamo avuto modo di dirci, a telecamere spente, è proprio dall'Italia che è partita l'innovazione tecnologica che è andata poi a supporto del network. Vuole condividerlo con i nostri telespettatori? Volentieri, è parzialmente vero, nel senso che quello qui faceva riferimento adesso è lo sviluppo e l'utilizzo di un software gestionale, mentre sul resto tecnologia, infrastrutture tecnologiche, magari avremo modo di dire due parole dopo. No, quello che intendeva è verissimo, nel senso che noi siamo partiti in Italia con la costituzione dello studio italiano all'interno di uno studio internazionale che ha 48 sedi, o meglio, 101 sedi in 48 paesi, quindi tante tante persone in tanti paesi diversi del mondo. Noi siamo partiti in Italia nel 98 e fin dal primo giorno abbiamo sviluppato un software gestionale nostro, quindi proprietario, che poi ovviamente nel tempo si è evoluto, abbiamo raffinato e sviluppato ulteriormente per 20 anni e oltre. Quando poi lo studio a livello globale ha deciso di implementare un software gestionale comune che unisse tutte le sedi del mondo all'interno di un progetto più ampio di global office, quindi di studio unico, proprio come diceva il collega prima, con l'obiettivo di unire le persone, di uniformare e di dare la possibilità di sentirsi a casa in qualunque ufficio, di poter lavorare alle medesime condizioni, avendo accesso alle medesime piattaforme, alle medesime applicazioni, come se fossi a casa tua o nel tuo ufficio quotidiano. All'interno di questo più ampio progetto si è pensato all'implementazione worldwide di un gestionale e ovviamente è stato analizzato il nostro software che, devo dire, nel tempo si è arricchito moltissimo, è proprio tailorato per uno studio non solo legale, ma qual è il nostro, che è multiprofessionale, quindi ha ulteriori sfide, presenta ulteriori sfide proprio dal punto di vista anche tecnologico e di collaborazione, integrazione delle varie practice, perché abbiamo appunto una componente legale, una fiscale, ma anche il BPO, dalla consulenza del lavoro, dai cedolini alla contabilità e bilanci, IT, cyber security, abbiamo veramente tantissime practice, tantissime professionalità e molto spesso il cliente si avvale di diversi servizi del nostro studio, per cui potete immaginare quanto sia importante lo scambio di informazioni, perché un cliente giustamente ritiene che se ha fornito a me un'informazione, la stessa informazione debba essere già conosciuta dal collega che gli elabora le paghe, per dire, e quindi è importante che ci sia scambio e condivisione. Allo stesso tempo è importante che ciò avvenga in modalità protetta, non possiamo certo pensare di scambiarci dati, informazioni, appunto anche sensibili, attraverso email, per cui avere il supporto di un gestionale adeguatamente protetto, poi ospitato in data center, che nel nostro caso è stato da poco migrato proprio nell'ambito del global office a Francoforte, era certamente importante per permetterci di parlare, comunicare, lavorare al meglio e salvaguardare anche il patrimonio di conoscenza storica del cliente, delle pratiche, dei pareri già resi, a tutto vantaggio poi ovviamente dell'efficienza nella risposta al cliente, nel semplificare e sveltire il lavoro e quindi essere più depestivi col cliente senza perdere nulla, ma anche proprio per la condivisione del know-how, per la ricerca di precedenti, insomma le funzioni sono molteplici, dalla banca dati fino ai timesheet e la fatturazione, tutto collegato e a livello mondiale ormai, per cui noi lavoriamo anche molto su pratiche cross border, su operazioni complesse magari che coinvolgono più paesi e questo gestionale ci aiuta tantissimo dal punto di vista operativo proprio perché i dati sono tutti contenuti, poi si gestiscono e si profilano gli accessi, si condividono i progetti sui quali occorre lavorare a più mani, più paesi, insomma la tecnologia aiuta moltissimo con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la qualità e soprattutto salvaguardare appunto la sicurezza, mi ritrovavo pienamente ovviamente in quello che diceva il collega, è diventata una priorità assoluta. Avvocato, lei diceva che ci ha raccontato un po' la storia della nascita del vostro gestionale che risale al 98, chiaramente i gestionali sono da considerare materia viva, si deve trasformare con le esigenze dello studio del cliente, qual è stata l'evoluzione in questi anni del vostro gestionale, quindi quali cambiamenti che ha visto, che avete apportato e soprattutto quali sono stati i vantaggi immediati di averlo sviluppato fin da subito come un gestionale proprio? Beh, inizialmente le funzioni erano più limitate e più orientate insomma a fare da archivio organizzato di documenti, anziché aprirti una cartellina sul tuo pc o sul server, creavi il documento e quindi andava direttamente al suo posto nell'archivio corretto ed era facilmente rintracciabile e reperibile da chiunque dovesse successivamente poi dover lavorare sulla medesima pratica, quindi inizialmente aveva più una funzione di archivio e anche era già impostato fin dall'inizio con chiavi di ricerca anche per poter ritrovare più agevolmente il know-how, eccetera. È stato successivamente sviluppato e integrato con tante altre funzioni per semplificare forse la funzione alla quale si è lavorato di più negli ultimi anni, intendo negli ultimi dieci anni, da che poi è stato implementato anche a livello worldwide e che è stato insomma è stato rielaborato non solo a livello di interfaccia e di lingue perché abbiamo implementato diverse lingue, ma poi ci siamo avvalsi e abbiamo integrato all'interno di questa base esistente che è stata utilizzata più o meno per l'80% anche un altro software che era stato invece sviluppato autonomamente dai colleghi dei paesi baltici che sono molto innovativi in effetti da quel punto di vista, molto tecnologicamente avanzati e loro avevano lavorato più sulle qualità CRM, Customer Relationship Management, quindi la gestione invece del patrimonio e conoscenza sul cliente e quindi più un supporto dal lato della comunicazione. Ecco, questo noi come studio legal italiano magari un pochino più refrattari a quello che comunicazione e marketing non avevamo minimamente sviluppato da quel punto di vista, mentre invece i colleghi lì erano stati molto bravi e quindi abbiamo preso un po' il meglio dei vari software, li abbiamo fusi e poi con l'occasione è stato modernizzato, implementato in diverse lingue, rielaborata l'interfaccia e lavorato molto poi sulla profilazione degli accessi e anche per via nel frattempo è stato introdotto il GDPR per cui abbiamo dovuto anche armonizzare da quel punto di vista. Sì, la privacy è assolutamente stata una spida insomma per tante aziende. Poi ha tutte le funzioni basilari per cui ti aiuta nel monitorare l'avanzamento del lavoro, in qualunque momento pigi un tasto e sai a che punto sei dell'incarico, le ore fatturabili o meno, ti aiuta nella fatturazione, ti aiuta nella comunicazione. Insomma, si è voluto. Un supporto diciamoci all'indispensabile. Assolutamente, infatti per noi era inconcepibile quando ci confrontavamo con i nostri colleghi all'estero che lavorassero senza un gestionale perché noi avendolo utilizzato dal giorno uno della nostra attività e perché come me ho iniziato 23 anni fa a lavorare in quello studio, non pensavo potesse esistere una realtà diversa e mi chiedevo come potessero gestire questa enormità di dati e di informazioni. Sicuramente quello è il grande valore aggiunto, è proprio la memoria storica dello studio è lì. E ripetiamola anche la memoria storica appunto dei clienti, della gestione dei clienti che poi è il patrimonio dello studio oltre ovviamente al capitale umano. La sicurezza, i dati restano lì protetti, non vanno avanti, indietro da un paese all'altro, da un collaboratore all'altro, già di per sé ti aiuta a garantire un livello di sicurezza superiore ovviamente. Avvocato Cerullirelli, torno da lei perché prima dicevo una cosa molto interessante, noi abbiamo già da anni investito in tecnologie e poi chiaramente nel 2020 con lo scoppio della pandemia ci siamo resi conto di quanto fosse stato utile. Abbiamo avuto il ritorno dell'investimento immediato ed effettivamente questi due anni hanno sconvolto un po' le modalità operative, noi lo diciamo continuamente di tutte le aziende ma anche degli studi legali. Per chi come voi fa un determinato contenzioso, quindi abituato a stare in aula, con chiusura di tribunali, con udienze a distanza, quanto è stato importante avere questa infrastruttura tecnologica ed essersi dotati anche di quei cambiamenti logistici e ambientali di cui accennava prima? Fondamentale e devo dire che è stata un'esperienza anche che ci ha arricchito molto nel corso del 2020. Le prime settimane dopo la chiusura e l'interruzione di tutte le attività sono state evidentemente difficili nella gestione quotidiana del contenzioso ma poi con una velocità veramente incomiabile in particolare il Tribunale di Milano è stato in grado di dotarsi di quegli strumenti che il Ministero ha messo in disposizione, in particolar modo le udienze online che hanno permesso al contenzioso di riprendere con una modalità nuova, mai fino a quel momento sperimentata nessuno di noi, le cosiddette udienze online che sperabilmente rimarranno e che hanno dato un'ottima prova di sé, probabilmente nelle udienze più importanti si perde qualcosa con udienze da remoto, ma per tutta l'attività non essenziale, non di discussione fondamentale ci sono dei vantaggi logistici evidenti, ma anche nelle udienze di discussione più significative comunque noi abbiamo avuto un buon riscontro perché l'udienza online ad esempio garantisce una maggiore rigidità delle forme, il che per un'udienza può avere dei vantaggi, un'assegnazione più puntuale dei ruoli e dei tempi di esposizione garantiti alle parti, un maggior ordine nella discussione, una anche maggior semplicità ad esempio di condivisione di documentazione a supporto, di condivisione di note scritte, lo strumento informatico ha dei notevoli vantaggi, senza dimenticare un altro aspetto fondamentale per chi fa contenzioso, come dire estremamente complesso e che spesso vede e in questo mi ricollega a quello che diceva la collega sulla necessità anche di condivisione di informazioni e di magari spendere un po' di parole sulla condivisione di documentazione tra diversi team legali, ma nel nostro caso il nostro contenzioso spesso come dire vede la partecipazione di clienti o avvocati stranieri e l'udienza online ha consentito nonostante l'impossibilità di viaggiare una visibilità forse ancora maggiore del nostro contenzioso rispetto a quella che era possibile prima in cui un cliente per poter assistere a un'udienza aveva bisogno di viaggiare dalla Cina o dal Giappone o dagli Stati Uniti, non sempre possibile, non tutte le udienze lo giustificavano e l'udienza da remoto ha aperto questa nuova possibilità che devo dire è stata colta anche con favore dai giudici che hanno mostrato la massima disponibilità e cooperazione in questo senso. Da un punto di vista proprio ambientale, anche con le telecamere spente ci siamo confrontati su quelli che sono stati i propri cambiamenti e gli investimenti che lo studio ha fatto per permettere anche ai clienti di partecipare in totale sicurezza a queste sedute. Che tipo di investimenti nello specifico avete dovuto fare? Come avete attrezzato le vostre sale in quattro sedi diverse per poter partecipare poi in sicurezza e far partecipare i vostri clienti alle sedute? Sì, i nostri investimenti si sono articolati in diverse direzioni. Il primo, quello che menzionava lei, era un ripensamento dei nostri spazi. Le sale riunioni che ancora abbiamo per accogliere eserciti di rappresentanti delle parti di studi legali hanno perso centralità, mentre invece oggi sono molto importanti sale riunioni di dimensioni più contenute ma con un'alta dotazione tecnologica per consentire la connettività tra più analoghe mini sale riunioni in diverse parti del mondo. E questo è stato una delle direttrici che abbiamo seguito negli investimenti che menzionavo prima di ripensamento dei nostri studi milanesi. Un'altra importantissima esigenza è quella di avere strumenti di condivisione in tempo reale, di documentazione, tra team legali, siti in diverse giurisdizioni e abbiamo adottato alcune piattaforme, una che è adottata da tutti quanti i nostri studi equivalenti a noi in altre giurisdizioni e che garantisce da un lato quelle esigenze di riservatezza e dall'altro quella creazione di un ecosistema condiviso in cui tutti i soggetti possono operare in tempo reale su documentazione disponibile a tutti e assicurare da un lato un allineamento costante del materiale condiviso, dall'altro la protezione di quel materiale nelle modalità più opportune. Avvocato Santaniello, abbiamo iniziato a parlare di altre tipologie di innovazione, ci stiamo già spostando e dopo la pausa pubblicitaria continueremo a parlare proprio di innovazione organizzativa. Abbiamo appena accennato alla riorganizzazione degli spazi, perché pensare a uno studio 4.0 vuol dire ripensare anche gli spazi, ripensare alla gestione del personale, ripensare all'organizzazione, ripensare anche in termini molto pratici, normativi, che vanno anche a guardare un po' quelle che sono le impostazioni dei clienti e a pensare a obiettivi non finanziari come gli ESG, come i modelli 2.3.1, anche se non sono chiaramente obbligatori. Quindi creare un ecosistema intelligente, far diventare uno studio 4.0, appunto una macchina intelligente. Voi in Redel in particolare affrontate già da tempo il tema della sostenibilità, della sostenibilità integrata anche ai modelli 2.3.1. Cosa avete fatto in questi anni? Sì, abbiamo iniziato, devo dire, a lavorare concretamente a un modello organizzativo ai sensi della legge 2.3.1, integrata con sia SAR policy e quindi con principi anche non obbligatori, buone prassi, raccomandazioni, in realtà le fonti sono veramente vastissime. Abbiamo iniziato a lavorare concretamente a questo disegno nel 2019. Avevamo già iniziato a collaborare con lo studio di Norimberga, che è un po' la casa madre del nostro studio, collaborando appunto alla stesura dei bilanci di sostenibilità che inizialmente venivano fatti solo a Norimberga e l'Italia ha partecipato come primo dei paesi esteri per un mini consolidato, diciamo, report integrato di bilancio di sostenibilità. Poiché l'interesse è crescente, è innegabile, ma già da tempo, soprattutto nei giovani, nel nostro studio l'età media è molto bassa, abbiamo tantissimi giovani e quindi, insomma, anche spinti dalla passione, dalla voglia di approfondimento dei giovani, abbiamo lavorato sia progetti rivolti ai clienti, sia un progetto interno e ne è uscito, diciamo, il risultato è stato proprio un modello 231 integrato con la sostenibilità integrata all'interno del modello. Non sono molti gli studi legali ad essersi dotati di un modello 231, un modello organizzativo. Ovviamente non basta disegnare il modello, quello che stiamo facendo adesso è proprio il disegno di percorsi di formazione, sia online sia offline, grazie anche appunto a tutti gli strumenti che abbiamo imparato ad usare in questi due anni di pandemia. Abbiamo sviluppato tanti nuovi modelli di formazione ibrida e-learning integrata al lavoro in presenza, poi scaricabile on-demand, insomma le forme più varie, per riuscire a raggiungere un po' tutti, perché ovviamente la formazione in presenza resta, a mio avviso, la via migliore, perché c'è lo scambio diretto e immediato. Si può replicare anche in streaming, quindi dove chi partecipa ha modo di interloquire direttamente, poi però poter fruire anche on-demand di determinati moduli, lezioni, poter poi soprattutto verificare le competenze acquisite attraverso test certificati, quindi poter tracciare, certificare anche l'avvenuta formazione, come può essere una materia come la 231, dove anche questo aspetto è importante, insomma ci ha spinto a elaborare dei modelli sempre più complessi di formazione integrata, che riuscisse appunto a mettere a disposizione degli utenti sia la formula on-demand, sia in streaming, sia in presenza, in modo da poter essere efficace, soprattutto man mano che entrano nuove risorse, è più facile riuscire a far fruire del corso e aggiornarli immediatamente ovunque si trovino, in questo periodo purtroppo magari anche da casa e quindi certamente la formazione a distanza su questi temi è molto importante, è questo il punto in cui ci troviamo adesso, diciamo il modello c'è, è stato presentato già nel 2019 il progetto, stiamo lavorando, ma questo da tanti anni in realtà, ben prima che si iniziasse a parlare tanto di sostenibilità, alla limitazione o meglio abbiamo abolito quasi completamente la plastica, la carta è solo riciclata, ma questo penso sia un po' il minimo sindacale ormai, diamo bonus e incentivi per l'acquisto di auto elettriche, insomma cerchiamo di fare il possibile da questo punto di vista, però ovviamente come professionisti, come studio legale o fiscale, l'impatto dal punto di vista ambientale ovviamente non è certo l'impatto maggiore, non abbiamo uno stabilimento produttivo, possiamo giusto lavorare sui consumi energetici, sulla scelta dell'energia, sull'utilizzo della plastica, sulla selezione dei fornitori per i catering, insomma lo spazio di manovra però non è enorme, non avendo una produzione, quindi più che altro lavoriamo sugli aspetti sociali, invece lì lo spazio è ampio, parlo anche da donna certamente a partire dalla parità di accesso a percorsi di carriera, percorsi di empowerment, a coaching, mentorship, all'inclusione non solo dal punto di vista del genere ma anche a livello, insomma le diversità sono infinite, tanto che alla fine la persona fra virgolette non diversa è la minoranza, penso, se vogliamo veramente andare a fondo, per cui diciamo che le nostre politiche, anche CSR, sono molto orientate all'impatto sociale e quindi anche all'inclusione nelle comunità, nel territorio, partnership con diverse organizzazioni che sono attive, che sosteniamo in diversi ambiti, non solo, da sempre storicamente assistiamo e aiutiamo associazioni che si occupano di formazione a bambini o ragazzi in paesi svantaggiati, quello certamente è sempre stato un po' il nostro canale, diciamo, di charity preferito perché riteniamo che l'education sia il valore principale se vogliamo aiutare una comunità a crescere, però grazie a tante partnership abbiamo ampliato molto, devo dire, il portafoglio delle iniziative e arricchiscono molto, devo dire. E come diceva giustamente, non soltanto per posizionarsi sul mercato come organizzazione, come impresa, ma anche come arricchimento interno, anche perché giustamente, ancora una volta lo diceva, i giovani guardano moltissimo quegli aspetti, quindi anche per attrarre le risorse più giovani uno studio legale 4.0 non può prescindere da determinate riflessioni che sono nell'agenda dei più giovani, fortunatamente. Non a caso il collega l'ha detto forse nella sua prima affermazione, risorse e infrastruttura tecnologica. E con un occhio proprio alle risorse, io vi ringrazio e chiudo questa prima parte della trasmissione, grazie all'Avvocato Rita Santaniello, partner di Redel, grazie di essere stata con noi. E grazie naturalmente anche all'Avvocato Cerulli Relli, partner di Travizzano e Quonso, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Un breve stacco pubblicitario e le riflessioni di Legal Corner su studi legali e innovazione proseguiranno con nuovi ospiti. Buongiorno e ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV, appuntamento con Legal Corner verso uno studio legale 4.0. Già nella prima parte di questa tavola rotonda abbiamo affrontato tante tematiche interessanti, abbiamo spaziato dall'innovazione tecnologica che è fondamentale nell'agenda degli studi legali, siamo arrivati alla sostenibilità e abbiamo iniziato a parlare di riorganizzazione degli studi. Questo perché per diventare degli studi legali 4.0 chiaramente non si può non impattare sulla riorganizzazione e sul ripensamento di quello che è lo studio legale tradizionalmente inteso. Continueremo questi ragionamenti con il nostro ospite. Do il benvenuto al professore avvocato Francesco Sciodone, managing partner di Grimaldi. Bentrovato professore. Buongiorno, grazie a voi. Allora, iniziamo subito con quello che stavo dicendo, una riflessione sulla riorganizzazione. La tecnologia, dal vostro punto di vista, come impatterà sul lavoro dell'avvocato, quali riflessioni state facendo al vostro interno per riorganizzare la struttura che è, ricordiamolo, una struttura complessa fatta di tante sedi e anche internazionali. Noi come Grimaldi ci stiamo ponendo questo problema della riorganizzazione post-pandemica in modo molto, direi, pressante perché abbiamo circa 300 professionisti attivi in Italia nelle varie sedi che oramai vanno da Bari a Roma, Milano, Parma, Torino, Napoli e Verona e a breve ne avremo ancora un'altra, ovviamente con una sede importantissima su Milano. Tutto questo ci porta ad essere molto attenti a come conciliare le esigenze del lavoro in presenza con il lavoro, diciamo, cosiddetto flessibile, come rendere compatibile lo svolgimento di un'attività che comunque ha bisogno di contatto e anche di vicinanza tra professionisti e clienti con il miglior utilizzo delle tecnologie, cercando di tenere conto delle esigenze ovviamente di sicurezza personale e di rispetto alle regole generali del Paese, ma anche le esigenze del nostro mondo, della professione, che vada all'andare in udienza, all'avere i gruppi di lavoro che possono incontrarsi con i clienti a svolgere attività tradizionali come il closing delle operazioni, piuttosto che la negoziazione non solo attraverso il freddo video dei PC, ma anche in presenza. Come tenere insieme tutto questo è la scommessa quotidiana che cerchiamo di fare appunto in un ambiente ampio e numeroso come quello della nostra presenza nelle nostre sedi. Avvocato a telecamere spenta abbiamo avuto modo di parlare, di confrontarci su un tema importante che è quello proprio del ripensamento del rapporto tra uomo e macchina. Innovazione per gli studi, lo dicevo in premessa, vuol dire anche grandi investimenti in tecnologia, anche voi non siete da meno, giustamente mi diceva questo comporta necessariamente una riflessione anche su chi sarà l'avvocato del futuro, come sarà riorganizzato uno studio, su chi investire e come continuare a valorizzare il capitale umano senza poter prescindere dal fatto che chiaramente lo sviluppo tecnologico su questo influirà. È un punto molto importante questo, è un punto molto importante sul quale credo di dire una cosa poco ortodossa rispetto a quello che è l'atteggiamento mainstream, cioè bisogna investire in tecnologia, bisogna innovare, digitalizzare, bisogna investire sul fattore umano, bisogna fare una cosa completamente diversa, non perché le altre non siano importanti, ma le altre sono scontate. Quello che bisogna fare in una situazione complessa, qual è quella che stiamo vivendo tutti, è investire sul fattore umano, questo significa cercare di prestare estrema attenzione alle esigenze dei giovani nell'inserimento, nella crescita del mondo del lavoro, alle esigenze di maturazione del professionista, anche arricchimento continuo dell'esperienza che può fare seguendo settori diversi e noi come studio su questo stiamo cercando di introdurre anche delle policy nuove dal punto di vista proprio del recruiting fino a tutta la crescita interna allo studio, che vogliamo condividere con tutti quanti i professionisti della nostra realtà per tenere conto allo stesso tempo delle esigenze che possono essere diverse dalle rispettive aree geografiche, dalle rispettive aree di competenza e senza mai perdere di vista però quello che è l'elemento più importante, cioè far crescere la persona perché sia il professionista capace di affrontare al di là della tecnologia, pc, telefonino, abbiamo cominciato con i fax, qualcuno ancora prima, resta determinante il fattore umano, un buon avvocato non è qualcuno che sa usare la tecnologia digitale o che è in grado di gestire una Teams o un collegamento dal proprio cellulare, un buon avvocato è qualcuno che è capace di gestire con la lucidità, la competenza, tenendo conto delle diverse fasi che le vicende complesse possono vivere, le esigenze e gli interessi dei clienti, per fare quello occorre investire su quello che è l'elemento chiave, cioè il fattore umano, che è importante nei più giovani come nei meno giovani, perché bisogna continuare a creare delle condizioni di lavoro, di vita professionale che siano coerenti con questi obiettivi. In questo senso noi abbiamo deciso ad esempio di investire da tempo anche in un modo diverso di fare ufficio, abbiamo scelto una sede che è la nostra sede di Milano, che è una sede particolarmente ampia, con spazi aperti importanti, abbiamo una piscina in terrazzo non per vezzo ma perché ci è sembrato giusto lasciare dei luoghi anche dove sia possibile stare in modo conviviale. allo stesso tempo è importante pensare la gestione delle esigenze sanitarie, per cui abbiamo deciso di avere all'interno delle nostre sedi un presidio bisettimanale per consentire l'accesso e la frequenza di utilizzo degli spazi professionali ma nel massimo della sicurezza, quindi test e tamponi disponibili per chiunque sempre due volte alla settimana per dare una normalità anche in una situazione che sicuramente normale non è. Tutto questo perché? Perché bisogna proteggere il fattore umano, bisogna mettere tutti quanti in condizione di lavorare sereni, di non essere preoccupati, di mitigare i rischi che inevitabilmente tutti quanti dobbiamo correre e possiamo correre, ma non rinunciare all'aspetto fondamentale della nostra professione. Noi non siamo macchine, tutto quello che possono fare le macchine evidentemente non avrà bisogno di professionisti, tutto quello che non possono fare le macchine ha bisogno di professionisti. Quindi il discrimine è molto semplice, gli strumenti tecnologici che sono ovviamente a disposizione di tutti e sempre più lo saranno, devono essere utilizzati per fare meglio il nostro lavoro. Il nostro lavoro non è un lavoro seriale, non è un lavoro ripetitivo, non è un lavoro banale o che può diventare una commodities. Il nostro è un lavoro molto personale, molto sartoriale, nel quale la componente appunto del fattore umano è determinante e questo secondo me è molto importante ricordarcelo come stakeholder, come community se vuole, di questo ambiente perché non bisogna pensare che investendo in tecnologia abbiamo fatto gli studi del futuro, investendo in tecnologia abbiamo fatto gli studi del presente. Quello che ci fa diventare studi del futuro è solamente un attento e lungimirante investimento sul fattore umano, tenuto conto delle aree, delle età, delle professioni, degli ambiti disciplinari che occorre trattare non in modo omogeneo così da livellare, ma occorre trattare in modo diversificato così da avere un ambiente polietrico capace di liberare al massimo tutte le energie positive che possono essere convogliate all'interno di realtà ampie e complesse come sono sicuramente gli studi professionali. Lo dicevo il vostro è uno sicuramente dei più complessi anche perché come giustamente ricordava lei presenza in tante aree geografiche anche all'estero con una sede a Bruxelles, come si fa proprio perché diciamocelo non è connaturato nel ragionamento di uno studio legale guardarsi come organizzazione, pensare in termini di HR, diciamo che sono dei discorsi più avanzati, ecco che uno studio legale tradizionalmente non è portato a fare. Come si fa ad armonizzare tutte queste diversità e a diventare un'organizzazione 4.0 poi? Guardi noi siamo una realtà abbastanza giovane o almeno penso ancora di essere tale. Abbiamo ripensato profondamente Grimaldi negli ultimi anni e negli ultimi anni è profondamente cambiata la nostra realtà. Solo dopo l'estate abbiamo aperto tre sedi, quelle di Torino, Napoli e Verona e ancora qualcosa faremo entro fine anno. Abbiamo fatto investimenti immobiliari importanti, ne stiamo per fare ancora su Bruxelles dove prenderemo una sede molto importante con circa mille metri tra coperto e scoperto per ospitare una presenza europea non occasionale, non la tradizionale buata a letra ma per creare anche lì un ambiente di lavoro capace di ospitare professionisti italiani ma non solo nel centro delle istituzioni europee. Dicevano italiani ma non solo perché da maggio del 2019 abbiamo lanciato la nostra Grimaldi Alliance che ci fa essere presenti in oltre 60 paesi con oltre 40 studi indipendenti che sono membri della Grimaldi Alliance con accordi di joint venture con esclusiva reciproca nello svolgimento delle nostre attività. Questo vuol dire avere coinvolto oltre 1400 professionisti che si riconoscono nel nostro ambiente di lavoro e che dialogano con noi dai temi della pandemia e di come reagire nei rispettivi paesi a questo tipo di difficoltà a come gestire oggi la mobilità professionale delle imprese in una situazione completamente diversa. Occorre ripensare banalmente i programmi di internship, noi abbiamo lanciato all'inizio di quest'anno un ambizioso programma di internship per oltre 100 stage con l'obiettivo che speriamo di realizzare entro fine anno è di stabilizzarne 50. Lo rilanceremo e lo rifaremo anche per il 2022 con un ulteriore livello di complicazione se vuole, dando la possibilità anche di svolgere stage da remoto tra virgolette presso le nostre sede estere. Quindi uno studente di Milano potrà fare il suo stage presso la nostra sede di Mosca con il nostro partner di Mosca piuttosto che uno studente di Brescia seguire il proprio tirocinio professionale presso la sede di Madrid. Tutto questo per creare sempre di più un ambiente che tenga conto delle nuove esigenze. Per fare questo occorre ovviamente tecnologia perché bisognerà dare strumenti adeguati per svolgere queste attività. Serve organizzazione perché purtroppo l'organizzazione non si autoproduce ma va continuamente aggiustata ed affinata ma serve ancora una volta una fortissima attenzione agli aspetti della persona e del professionista. Bisogna mettere tutti quanti in condizione di fare il meglio quello che altrimenti diventa un lavoro poco appagante, poco stimolante, direi quasi frustrante e questo va evitato. La migliore reazione alla concorrenza che c'è nel mondo professionale, siamo 250 mila professionisti in Italia ma in Brasile ce ne sono 2 milioni e 200 mila, quindi i numeri del mondo delle professioni tranne alcune enclave come può essere il ristretto club della Cassazione in Francia piuttosto che delle giurisdizioni superiori in Germania dove gli avvocati si contano sul palmo di due mani è fatto da una numerosità di professionisti. Per fare un lavoro fortemente competitivo, fortemente esposto a delle dinamiche di pressione verso il prezzo più basso occorre recuperare condizioni di lavoro nel quale l'aspetto umano è protetto, messo in condizione di essere utile e cercare di avere chiaro l'obiettivo che abbiamo come obiettivo finale che non è produrre ore ma è rendere servizi utili al cliente. Per fare questo occorre ragionare in modo direi piuttosto originale, diverso da quello che si è fatto fino adesso, cogliere l'occasione della tragedia che ha portato la pandemia in tutto il mondo per ripensare anche il modello di svolgimento delle attività professionali. Quindi tecnologia sì, fattore umano sempre, ma anche un ripensamento del modello organizzativo col quale affrontare queste esigenze, un modello direi completamente diverso nel quale l'avvocato deve tornare ad essere colui che risolve i problemi del cliente piuttosto che colui che trasmette delle billable hour all'amministrazione di turno. Noi dobbiamo avere chiaro che dobbiamo essere utili, tutti i giorni, tutte le volte che andiamo ad una riunione o che facciamo una Teams non dobbiamo pensare che stiamo facendo l'ennesimo adempimento della giornata, ma dobbiamo avere chiaro perché stiamo facendo quella cosa, che tempo possiamo dedicare e che soprattutto che risultato possiamo realizzare. E questo lo dobbiamo fare in modo continuo pensando ai più giovani o ai meno giovani. Deve essere un obiettivo chiave di tutte le attività che uno studio professionale moderno intende svolgere. Lei ha citato degli argomenti molto interessanti, la formazione, i giovani, anche la soddisfazione dei giovani e il riconoscimento all'interno di un'organizzazione che li appaga. E devo dire anche durante la prima parte di questa tavola rotonda è un tema che è stato molto battuto e l'abbiamo citato anche con un taglio particolare che è quello della CSR, della responsabilità, un tema che ai giovani è molto caro in questo momento e anche ai clienti, quindi un'altra delle componenti fondamentali a cui guarda chiaramente l'organizzazione studio. Quindi prima di salutarla vorrei lasciarla proprio con un'ultima battuta su questo. Anche Grimaldi sta riflettendo sulla sostenibilità, se sì, in che modo? La sostenibilità è una di quelle parole belle, di moda, la cui misurabilità è ovviamente tutt'altro che chiara, è come quello che è green. Vai a capire cos'è veramente green, con che livelli e con che capacità di concretezza. Noi cerchiamo di, non so se siamo sostenibili o no, sinceramente non lo so se arriveremo ad essere sostenibili. Cerchiamo di avere estremo buonsenso in quello che facciamo. Se sostenibili significa usare meno bottigliette di plastica, avere un uso dell'energia intelligente e non distratto, se significa fare attenzione all'uso di carta piuttosto che delle stampanti, se significa viaggiare quando serve piuttosto che in modo distratto e disordinato, se significa limitare effettivamente gli spazi di lavoro a quelli che sono effettivamente impiegati piuttosto che tenerne condizionati o riscaldati in modo direi distratto anch'esso, allora proviamo ad essere sostenibili. Se sostenibili significa produrre l'ennesimo manuale, l'ennesima policy per dirci sostenibili senza avere capito in realtà che cosa stiamo facendo, probabilmente non siamo sostenibili, perché la mia impressione è che su questi argomenti occorre essere pragmatici, concreti, non teorici, perché anche nei confronti dei giovani quello che dobbiamo creare è un'idea di motivazione interna nello svolgimento della professione, lavorare in uno studio deve essere qualcosa che dà effettivamente soddisfazione al professionista, se la motivazione è solamente esterna, vuoi economica, vuoi per i gadget o per le occasioni mondane che si creano, quelle sono motivazioni molto effimere, bisogna recuperare un elemento fondamentale nella vita e nel lavoro che è la passione, o si fa qualcosa con passione e quello deve essere quello che ci ricordiamo tutti i giorni, oppure tanto vale fare altro, andare in vacanza potendo. Nel nostro mondo la mia impressione è che la sostenibilità deve essere qualcosa che è totalmente anche quella da ripensare, la sostenibilità significa rendere non necessarie 2200 ore di billing per un professionista perché sia stimato, non c'è bisogno di contare le ore che lui trascorre nello studio e costringere magari i giovani professionisti a fare notte senza ragione, bisogna magari cercare di ragionare con loro e capire come possano fare meglio presto e con più soddisfazione, bisogna dotarli di strumenti che gli consentano di fare lavoro insieme con gli altri creando anche dei momenti di crescita professionale, bisogna ripensarci senza pensare di essere arrivati da nessuna parte, ma con un forte spirito critico, ma anche con la consapevolezza che occorre cambiare. I meccanismi di incentivo puramente economico sono stati e sono probabilmente il male del nostro settore professionale perché hanno trasformato quella che era una professione che appunto si svolgeva con passione e con attenzione al risultato in un puro algoritmo economico dove ore, billing, rapporto tra efficienza dei costi e ricavi con utili prodotti sono diventati l'unica cifra significativa per capire se cambiare studio e non cambiare studio. La mobilità tra le strutture professionali, che è una cosa ottima, positiva, non deve diventare però una cosa negativa che è il fenomeno del Globetrotter, con questo meccanismo di recruiting incessante e perenne che non tende a far investire i professionisti nella propria crescita, ma tende semplicemente a renderli esposti all'offerta più alta. Questo a mio avviso non aiuta la crescita dei professionisti, non aiuta la crescita del mercato e non rende il nostro mondo sostenibile. La sostenibilità è una cosa seria che va oltre le polisi, che va oltre i manuali, che deve partire dal ripensamento che non può che avere al centro, ancora una volta, il fattore umano del mondo degli studi professionali. E con questo messaggio sulla sostenibilità che ancora una volta, come diceva giustamente lei, mette al centro, pone al centro il capitale umano, chiudo e la ringrazio, grazie all'Avvocato Francesco Sciodone, managing partner di Grimaldi. Grazie naturalmente anche al nostro pubblico per averci seguito. Gli appuntamenti con Legal Corner chiaramente non finiscono qui. Buona giornata. Grazie a tutti.